La rubrica alla lettura con un libro per voi. Il romanzo è ambientato soprattutto in una città di mare, quindi una città di colori e di colore. Quella città è Marsiglia. Il romanzo I colori dopo il bianco, dovremmo spiegare anche questo titolo, di Nicola Lecca. Innanzitutto il titolo. Silke, la protagonista di questo romanzo, viene mandata via di casa, lascia Innsbruck, una città bianca, una città di regole, e va nella direzione opposta, Marsiglia, nel caos. E si ritrova in un luogo in cui l'errore viene ostentato come un vanto, non è più una colpa, un peso, ma è addirittura un'emozione poter sbagliare. Si sente accettata. Ecco, spieghiamo di più, raccontiamo di più di Silke, della protagonista insieme alla città. Silke è la figlia di un ricco banchiere che vive per la reputazione, per le regole, per le abitudini. Tutto è programmato, le giornate sono quasi uguali. Le giornate riaccadono con la grazia naturale del nuoto sincronizzato. Invece a Marsiglia tutto è imprevisto, tutto è caos, tutto è vita. Vivere e incontrarsi col mondo, vivere e gli altri, non rispecchiarsi negli altri, ma incontrarli. Tu hai vissuto a Marsiglia, hai vissuto a Innsbruck o più in tante altre città. Dici, sono uno scrittore nomade. Che significa? Una scelta di vita, una scelta letteraria, una scelta di stile? Ho vissuto in sette grandi città europee per lungo tempo, ne ho visitato più di 300. Essere uno scrittore nomade mi consente di conoscere il mondo a fondo per poterlo raccontare. Innsbruck è una città in cui ho vissuto per 500 giorni, a Marsiglia un po' meno, ma a Marsiglia la ricordo di più. Mi ha veramente emozionato. I colori dopo il bianco, il nuovo romanzo di Nicola Lecca pubblicato da Mondadori.